Ben trovati al TG Sordi di Lecce 7. In bocca contro mano la statale si schianta contro un'auto causando la morte del conducente. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale un carabiniere forestale di Brindisi. Risultato positivo all'alcol test. La vittima è un 59enne di Sandonaci. In Puglia in vent'anni sversati, tombati e bruciati rifiuti di ogni genere. Lo dice il rapporto sull'ecomafia promosso da Coldiretti. Si tratta di un fenomeno grave e in crescita. A sversare rifiuti di ogni genere, immondizia, elettrodomestici fino all'amianto, non sono più soltanto i gruppi criminali, ma anche i cittadini. Presunti illeciti per una nomina. L'assessore al welfare della Regione Puglia, Salvatore Ruggeri, è indagato dalla Procura di Foggia. L'ipotesi riguarda la nomina del commissario dell'azienda per i servizi alla persona, Castriota e Corropoli di Chieuti. Nascite record all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. In soli due giorni sono venuti alla luce ben 21 bambini. L'eccezionale boom di nascite segue un trend già avviato nei mesi scorsi. Effetto del riordino ospedaliero, ma anche della fiducia dimostrata dalle future mamme nel reparto diretto dal dottore Gerardo D'Ambrogio. Finale di messa alternativo e divertente nella parrocchia di San Bernardino Realino, nel quartiere Aria Sana di Lecce. Il parroco Don Nando ha ospitato sull'altare il capitano del Lecce Marco Mancosu e una chiesa aggrimita di gente ha intonato i cori degli ultra, mentre Don Nando vestiva con la maglia del Lecce le statue dei Santi. Giorni di allenamento per il Lecce che ha approfittato della pausa nazionale per preparare al meglio la sfida contro il Milan di domenica prossima a San Siro. Fiducioso il capitano giallorosso. Dobbiamo avere equilibrio e continuare a lavorare. Sono sicuro che i risultati arriveranno. Grazie a tutti.